Percorsi pittorici nel viaggio verso la libertà dei popoli. È il titolo della mostra inaugurata il 4 giugno nella Sala Incontri dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio Regionale del Piemonte in via Arsenale 14G a Torino. Alla presentazione dell'allestimento curato dal Comune di Torre Canavese sono intervenuti il Presidente dell'Associazione per il Tibet e i Diritti Umani del Consiglio Regionale del Piemonte, Gian Piero Leo, il Sindaco di Torre Canavese Pietro Bertinetto e il Critico d'Arte Marco Datrino. moderati dal Direttore della Comunicazione dell'Assemblea Regionale Rita Marchiori. L'arte è una delle massime forme di espressione di libertà e questa mostra raccoglie proprio l'anelito di libertà dei popoli, di popoli in particolare che hanno provato la dittatura. Per questo siamo felici come Associazione per i Diritti Umani, insieme al Comune di Torre Canavese, di sponsorizzare una mostra così bella, così ben riuscita e così significativa.